Musica Buonasera e benvenuti a Casa Green, la nostra rubrica dedicata alle energie rinnovabili. Vi presento gli ospiti in studio che sono Federico Zammarini, imprenditore appunto nel settore delle energie rinnovabili. Buonasera e benvenuto. E poi abbiamo l'ingegnere Gabriele Martino che si occupa di supporto alla progettazione per gli impianti che si occupano appunto di energie rinnovabili. Benvenuto. Entriamo subito nella nostra rubrica, nel vivo dell'argomento di oggi e le chiedo Federico, cosa offre il mercato delle energie rinnovabili oggi nel 2023? Ok, ma intanto io partirei a parlare dagli impianti fotovoltaici. Quindi impianti fotovoltaici sono ormai molti anni che si sente parlare di queste tecnologie. Diciamo che negli ultimi dieci anni sono stati fatti passi da gigante perché tutto quello che è l'energia elettrica, quindi impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e la stessa viabilità elettrica hanno fatto veramente dei passi da gigante. Quindi mentre una volta erano impianti, come dire, tecnologie nuove, oggi abbiamo impianti con anche garanzie di 30 anni. Quindi sicuramente il fotovoltaico oggi la fa un po' da padrone. Gli impianti solari termici. L'impianto solare termico è quel tipo di pannello che scalda l'acqua calda, quindi prendi i raggi del sole e scalda l'acqua. Una tecnologia veramente molto molto semplice ma molto efficace. E le pompe di calore e le caldaie ibride. Quindi un sistema di riscaldamento che con l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici possono aiutarci a risparmiare quelli che sono i consumi del gas. Lo vedremo poi anche più avanti. Sono misure queste che diventeranno praticamente obbligatorie nel senso che le case ne dovranno essere dotate per tutta una serie di ragioni. Ma spieghiamo meglio, vedendo anche questa slide, come funziona l'impianto fotovoltaico. Ok, l'impianto fotovoltaico sono dei pannelli prodotti in silicio. Quindi il silicio fa da trattore nei confronti dei raggi del sole e produce questa energia. Questa energia oggi è molto fruibile in un'abitazione in quanto con gli accumulatori, quindi noi accumuliamo di giorno l'energia prodotta e possiamo utilizzare la sera. E quindi veramente l'utente finale può utilizzare questa energia per qualsiasi cosa. Quindi dalla lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice e anche sui sistemi di riscaldamento. Perché oggi parleremo di pompe di calore e spiegheremo cos'è una pompa di calore, ma di fatto oggi il riscaldamento sta andando verso questa direzione. Quindi sfruttando l'energia del sole riusciamo a scaldare l'abitazione senza dei combustibili fossili. Quindi c'è una sinergia proprio tra quello che è l'impianto fotovoltaico e quello che poi è il riscaldamento, che come diceva lei non ci saranno più le vecchie caldaie, ma verranno sicuramente sostituite col tempo da queste pompe di calore. Parlava di caldaie ibride, qual è la differenza? Poi ci spiegherà anche l'ingegner Martino più nel dettaglio. È un po' come le automobili. Prima avevamo le automobili solo col motore termico e oggi abbiamo anche le automobili con la possibilità di sfruttare o di caricare delle batterie, quindi di avere un secondo propulsore. Quindi quello termico e quello invece elettrico. La stessa cosa viene fatta sugli impianti ibridi di riscaldamento. Quindi c'è una caldaia a gas e abbinata anche una caldaia elettrica con un sistema che si chiama pompa di calore, che poi magari il mio collega parlerà più nel dettaglio. Comunque lo scopo è quello di utilizzare l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici, visto che oggi abbiamo anche gli accumulatori, quindi la possibilità di sfruttare questa energia anche la sera e anche magari non proprio nel momento in cui il sole sta producendo, perché era un po' il limite degli impianti di qualche anno fa. Quindi gli accumulatori erano una tecnologia non ancora diciamo all'avanguardia come oggi e quindi il fotovoltaico aveva il limite di dover produrre e consumare e autoconsumare l'energia in quell'istante. Mentre oggi possiamo permetterci di stoccare l'energia in questi accumulatori e quindi anche sfruttarla per il riscaldamento e non solo per quelli che sono i consumi elettrici. Ecco esatto, la novità è anche in questo, sta proprio, no? Utilizzare l'energia elettrica per l'impianto di riscaldamento, è di un'energia elettrica pulita sicuramente. Allora, se non c'era qualcosa da aggiungere in questa parte introduttiva, passavo la parola all'ingegner Martino con il quale volevo capire quindi come funzionano queste pompe di calore di cui ci ha parlato Zammarini. Grazie per la domanda, mi fa molto piacere poterne parlare perché mi rendo conto che nella quotidianità è molto complesso spiegare agli utenti finali, a chi non è un tecnico, come lavorano queste pompe di calore e come si sposano comunque con gli impianti fotovoltaici. Farei un passo indietro, adesso mentre ne parlavamo mi è venuto in mente quando all'università mi dissero che se avessimo avuto la capacità di utilizzare tutta l'energia che arriva dal sole, l'energia che il sole ci dona quotidianamente, solo sulla parte delle terre emerse avremmo soddisfatto più e più volte quello che era il fabbisogno di energia del nostro pianeta. Quindi c'è tanta energia che arriva sul nostro pianeta dal sole. Come la sfruttiamo? Sicuramente con i pannelli fotovoltaici, quindi producendo energia elettrica dalla radiazione solare, ma questa energia è anche nell'aria, nell'aria esterna. Il fatto che noi possiamo vivere in questo pianeta è perché ci sono temperature consone alla vita sulla Terra. Cos'è la pompa di calore? Quindi vado a rispondere alla sua domanda. La pompa di calore è un sistema che trasferisce l'energia che c'è nell'aria esterna, nell'ambiente esterno, lo prende, prende questa energia e la porta all'interno dell'abitazione, la trasforma e la rende utile per il riscaldamento degli ambienti, il riscaldamento domestico, che ci siano i radiatori, che ci sia il pavimento radiante, poco cambia, e riesce a produrre anche l'acqua calda per i suoi domestici, quindi per le nostre docce. Tutto questo utilizzando energia elettrica. Quindi qui c'è un altro di quei fraintendimenti sulla nostra mentalità un po' legata al combustibile fossile. L'energia elettrica che utilizza la pompa di calore non la utilizziamo direttamente per scaldarci, non è una strofetta elettrica. L'energia elettrica serve alla pompa di calore per trasferire questa energia dall'ambiente esterno all'interno. Perché si sposa bene con il fotovoltaico? Perché è chiaro, la caldaia a metano, a gas, a gasolio che abbiamo a casa, non possiamo produrci in loco una quota di metano per scaldare gli ambienti. Possiamo produrre in loco, con i pannelli fotovoltaici sul nostro tetto, l'energia elettrica che farà funzionare la pompa di calore. Quindi andiamo verso quello che l'Unione Europea, poi lo vedremo sicuramente nel prossimo appuntamento, vuole. Quindi l'elettrificazione e l'indipendenza energetica e l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta non solo per le luci, per tutti gli apparecchi domestici, ma anche per il riscaldamento. Questo sicuramente va verso una direzione di efficienza energetica, di indipendenza e di autoconsumo dell'energia elettrica prodotta. Considerate che per un'unità di energia elettrica che viene assorbita possiamo produrne con la pompa di calore tre, quattro, cinque volte quella che viene assorbita dalla rete. Altro fattore che sento spesso in televisione è che in Italia produciamo tutta l'energia elettrica col gas. Non è vero. Una quota di energia elettrica che arriva nelle nostre prese è già rinnovabile. La produciamo con gli impianti eolici, vediamo in giro, ogni tanto ci capita di vedere le pale eoliche. La produciamo anche con impianti idroelettrici, anche quella è rinnovabile. Quindi è una tecnologia sicuramente che va oltre a efficientare, poi vedremo degli esempi di riduzione delle bollette, anche è una tecnologia ecologica ed economica, quindi sicuramente in questa direzione qua. Qui vediamo una... mi sono bruciato magari la diapositiva, ma qui si vede che una buona parte dell'energia elettrica viene prodotta già da fonte rinnovabili. Un'altra quota la produciamo in loco. È una parte verde praticamente. Sì, esattamente. Si può trovare facilmente su internet, cerchiamo sempre un sacco di informazioni e questo sicuramente ci può dare una mano. Un altro aspetto è la riduzione della CO2. Sempre di più il riscaldamento globale sta diventando un problema, ecco perché la Commissione Europea spinge anche su questa tecnologia, perché il grosso dei consumi, delle emissioni di CO2 viene fatto del riscaldamento residenziale negli immobili. Quindi se noi riuscissimo a intervenire su questi due aspetti, che sono quelli più... gli aspetti più pesanti nella produzione di CO2, potremmo ridurre le emissioni di CO2, ridurre il suo riscaldamento globale del nostro pianeta, che abbiamo visto anche cosa sta comportando anche come crisi climatica. Riducendo la CO2 con le pompe di calore riusciamo a fare... ad andare anche verso quelle che sono le riduzioni che ci chiede la Comunità Europea. I vantaggi su più fronti e anche necessità, perché come si diceva... Sì, per l'utente finale è un risparmio, è il connubio perfetto col fotovoltaico, quindi produrre energia elettrica che non uso solo per gli elettrodomestici, ma anche per il riscaldamento, che è una fetta importante dei consumi di una famiglia. Ecologica, perché riduco le emissioni di CO2 e faccio bene all'ambiente, quindi vado a limitare il suo riscaldamento globale e ci porta verso l'indipendenza anche energetica, che non è solo energetica, ma è anche politica. Abbiamo visto purtroppo in questi anni quanto dipendere da paesi esteri nell'approvvigionamento di combustibile fossile sia un problema a livello politico. Politico e non solo, insomma, si parla di guerra e di tante cose spiacevoli. Federico, io gli chiederei di portarci proprio l'esempio di una casa, di come funziona tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso all'interno di una casa, un esempio concreto tra l'altro. Ok, io prenderei questa... Allora, ok, qui vediamo i consumi ante intervento, quindi prima di installare i nostri impianti il cliente aveva un consumo di gas per il mese di novembre e dicembre di 2.024 metri cubi, per un costo di 1.840 euro, mentre di parte energia elettrica, sempre per questi due mesi, novembre e dicembre, 756 kilowattora. Quindi questo cliente nel 2021 ha speso 2.074 euro. Con l'installazione di un impianto fotovoltaico, di una caldaia ibrida e di batterie di accumulo, perché questi sono... e anche una colonnina per la ricarica di auto elettriche. Questi sono gli interventi che sono stati fatti da questo cliente. Vediamo nella slide successiva come i consumi di gas per il mese di novembre e dicembre siano andati a 301 metri cubi, per un costo di 248 euro, e il consumo elettrico è andato a 503 kilowattora, per un consumo e un costo di 125 euro. Quindi questo cliente ha speso in due mesi 373 euro. Non ricordo la cifra precedente più o meno che differenza c'è? Allora, nella slide successiva abbiamo fatto un paragone. Ok, quindi il cliente spende 2.074 euro. Ricordiamo che novembre e dicembre sono due mesi dove gli impianti fotovoltaici non sono al massimo, diciamo, del rendimento. Sono due mesi dove... Non è stato, insomma. Esatto. Quindi post intervento il cliente ha avuto un risparmio, un beneficio di 1700 euro, che è un 82%. Quindi quando diciamo che il mio collega prima Gabriele diceva che di energie rinnovabili e di energie ne abbiamo veramente in quantità, è la verità. Questi sono due mesi, diciamo, anche difficili. Poi da marzo a novembre veramente una famiglia può autoalimentarsi con gli impianti fotovoltaici e perché no magari anche ricaricare l'auto elettrica, far andare il raffrescamento, il riscaldamento. Quindi veramente oggi con l'efficienza che abbiamo di nuovi prodotti, con l'affidabilità, perché oggi si parla di 30 anni di garanzia su un impianto fotovoltaico, si parla di 10.000 cicli di garanzie per le batterie di accumulo. Abbiamo molti clienti che ci chiedono la durata di questi impianti, ma veramente un impianto oggi può durare 30 anni con poca manutenzione, diciamo. Quindi non serve che uno cambi spesso questi impianti. Un altro mito un po' da sfatare è lo smaltimento degli impianti. Oggi il pannello fotovoltaico è composto da tutti i materiali nobili, quindi lo smaltimento dopo 30 anni comunque si parla di materiali come silicio, come rame, come vetro, quindi assolutamente non ci sono nessun tipo di controindicazioni. Certo, insomma, vantaggi direi molto evidenti e anche grandi, come abbiamo visto dalla cifra, proprio sulle bollette direttamente, vantaggi per l'ambiente. So che approfondiremo questo tema poi nella prossima puntata, però magari chi ci guarda può pensare che la spesa per installare questi impianti sia molto alta, ma bisogna sapere che ci sono poi tantissimi incentivi. Sì, diciamo che rispetto a 20 anni fa, quando sono usciti i primi impianti fotovoltaici, noi come la nostra società sono più di 10 anni che ci occupiamo di impianti, quindi abbiamo all'attivo alcune migliaia di impianti installati e di fatto oggi le problematiche sono veramente poche. I costi oggi sono diventati alla portata di tutti, nel senso che oggi un impianto fotovoltaico per una famiglia media di 4 persone si ammortizza dai 5 ai 6 anni, con una vita però di 30 anni, quindi veramente nell'arco della vita il cliente può ammortizzarlo 5-6 volte e stessa cosa sono le batterie di accumulo. Inizialmente avevano dei costi molto alti, oggi un impianto con batterie di accumulo è assolutamente alla portata di tutti. Complice anche l'aumento dei costi dell'energia, perché negli ultimi due anni il costo di luce e gas sono veramente schizzati, quindi se prima ammortizzare un impianto servivano magari 10 anni, oggi lo si ammortizza nella metà del tempo e anche con gli incentivi che oggi abbiamo in vigore. Ecco, volevo a questo punto fare un pochino riassunto dei benefici che ha appunto chi investe nelle energie rinnovabili, chiedevo però a Gabriele se lei ad aggiungere qualcosa su quanto appena detto. Sì, mi farebbe piacere, visto che poi ci ascoltano da casa, magari tranquillizzarli sulla tecnologia, perché parlavamo della durata dei pannelli fotovoltaici. Allora, è una tecnologia molto antica, l'azienda per la quale lavoro produce pompe di calore da quasi 80 anni, quindi non è una tecnologia nuova. È chiaro che sta prendendo molto più piede adesso perché ce n'è la necessità. E anche sul discorso che sento spesso fare anche da amici, che quando magari fa freddo queste pompe di calore vanno in difficoltà, la verità è che sono pompe di calore pensate per il riscaldamento residenziale, lavorano fino a meno 28 gradi centigradi esterni, di temperatura ambiente esterna, quindi producono acqua fino ai 70 gradi, quindi è una tecnologia storica, come anche le auto elettriche, la prima auto elettrica del 1900 è la fatta Porsche, quindi è chiaro che vengono fuori adesso nel momento di necessità e nel momento in cui anche gli incentivi ci danno una mano. Quindi è una tecnologia affidabile, rodata su queste applicazioni. Pensate che più della metà del riscaldamento in Norvegia delle abitazioni è scaldate con pompe di calore. L'abbiamo visto, è un esempio virtuoso in quel grafico che ci ha mostrato prima. Diciamo, le pompe di calore nelle abitazioni una su due ha una pompa di calore e sono pompe di calore aria-acqua, quindi che prendono energia dall'aria esterna e la portano all'interno. E considerate che lì la temperatura media invernale è di meno 7, mentre in Lombardia è di 7 gradi, mediata sull'arco dell'inverno. Quindi anche la confidenza sulla tecnologia deve esserci, perché è una tecnologia rodata e affidabile e che si presta a questo riscaldamento. È chiaro che bisogna anche affidarsi, vedete qui anche un esempio di anche quando fuori fa molto freddo c'è ancora energia da portare fuori, da portare nell'abitazione. Un altro aspetto è affidarsi comunque a persone specializzate, perché se è vero che è una tecnologia rodata e affidabile e testata, fino al minimo particolare, è anche vero che bisogna affidarsi ai professionisti e alla progettazione dell'installazione, perché non è semplice. Poi l'ha messa a punto e la scelta del generatore. Secondo me c'è stato un po' di scontento in questi anni per chi ha scelto queste energie proprio perché c'è stata molta confusione, per cui è fondamentale, come sottolineava lei, di affidarsi a figure esperte. Un'immagine un po' sciocca, però fa capire che tutti abbiamo in casa una pompa di calore. Come vi ho detto è un sistema che porta via energia da una parte e la dà ad un'altra. Scusate, questo è un frigorifero domestico. Da dove prende l'energia? La prende dall'interno del frigorifero dove abbiamo gli alimenti e la butta fuori, quindi in cucina. Chi di voi avesse la possibilità di mettere la mano dietro al frigorifero si renderà conto che viene, emana calore, è il calore che ha sottratto all'interno. Quindi tutti abbiamo un esempio di una pompa di calore in casa e tutti sappiamo quanto è durato il frigorifero dei nostri genitori, quanti anni, quindi è una tecnologia attirabile. Mi premeva solo tranquillizzare l'utente finale. Questa è un'altra foto interessante, fa vedere dove vengono testate le macchine. Quindi abbiamo delle camere climatiche che vanno a portare all'esasperazione, anche l'umidità. Noi siamo qui a Cremona, sappiamo che è una zona umida, ma sono condizioni testate, quindi a basse temperature, in questo caso fino a meno 28, e con alti livelli di umidità. Quindi testiamo anche queste condizioni. Quindi la parola giusta è affidabilità, sono tecnologie affidabili. Vogliamo Federico riepilogare quali sono quindi i benefici della scelta dell'energia rinnovabile? Sì, allora diciamo che oggi, vediamo la slide magari successiva, che abbiamo... Sì, abbiamo un elenco di tutte, che un po' insomma sono già emersi ovviamente. Ok, poi al cliente finale diciamo che la prima cosa che dà all'occhio è l'autoconsumo, quindi che si tramuta poi in risparmio dall'80 all'85%. Abbiamo visto prima dove in un periodo così difficile come novembre-dicembre il cliente si è riuscito a risparmiare l'82%. Io faccio una piccola premessa. Dipende molto da come vengono utilizzati questi impianti. Comunque l'energia del sole ha sempre questo limite di funzionare durante il giorno e purtroppo la sera noi abbiamo a disposizione solo le batterie. Quindi sta molto all'utente finale cercare di migliorare un pochino l'autoconsumo, che è la cosa da privilegiare. Poi il contributo di scambio sul posto. Spesso la gente mi chiede l'energia mandata in rete, cosa viene fatto di questa energia. Questa energia viene rimborsata a un prezzo di mercato. Sulla bolletta proprio, no? Sì, diciamo che due volte all'anno il GSE, gestore servizi energetici, rimborsa questa energia che viene data in rete. Oggi, essendo il costo delle energie molto alto, anche il prezzo di questo rimborso è molto interessante rispetto all'epoca. I bonus fiscali, che hanno fatto discutere negli ultimi mesi, e magari ne parleremo nella prossima puntata, in primis il super bonus 110, ma anche se oggi non abbiamo più il super bonus, esistono molti bonus interessanti, e magari li spiegheremo, che aiutano il cliente ad ammortizzare questi impianti in poco tempo. Quindi la salvaguardia di aumenti futuri, quindi se noi abbiamo un impianto fotovoltaico e ci autoproduciamo l'energia che serve per la nostra abitazione, sicuramente l'ultima crisi energetica che c'è stata ci ha insegnato il più possibile a produrre questa energia, perché dal momento in cui l'acquistiamo come il gas o come l'energia hanno raggiunto dei prezzi veramente a volte improponibili. Il rispetto per l'ambiente, parleremo che entro il 2030 dovremo aderire ad un'agenda con degli obiettivi ben precisi, l'aumento del valore dell'immobile. Oggi gli immobili valgono a seconda della classe energetica, e la classe energetica, lo dice la parola stessa, migliora dal momento in cui noi installiamo degli impianti ad energie rinnovabili. Quindi non è da fare per forza sulla casa per sempre, ma anche su una casa che in un futuro prossimo si potrebbe dover vendere. Assolutamente, quindi installare un impianto fotovoltaico o degli impianti a tecnologie rinnovabili aumenta anche il valore dell'immobile. Un investimento sicuro, perché oggi sono impianti che rendono anche il 15%, quindi chi volesse anche fare una sorta di investimento, non c'è cosa migliore di fare un impianto fotovoltaico e vederlo proprio come anche investimento. E la soddisfazione di utilizzare, infine, l'energia autoprodotta e autoconsumata dal proprio impianto. Quindi questi sono i vantaggi in sintesi. Assolutamente. E aggiungerei quello che abbiamo accennato poco fa al fatto che, oltre a essere dei vantaggi, sono scelte quasi obbligate, perché c'è un'agenda, l'agenda del 2030, che lo prevede, non so chi di voi due vuole spendere questi ultimi minuti per accennare a quello che poi sarà l'argomento della prossima puntata. Sicuramente, come spesso accade, se non ci muoviamo noi in una direzione, arrivano comunque delle direttive dalla comunità europea, che questa volta mi sento di condividere, perché si va verso la decarbonizzazione, quindi la riduzione anche di emissioni di CO2, che tanto male stanno facendo al nostro pianeta. Si va verso un'idea di efficientamento energetico. Quindi sono direttive che dovremo recepire. Anche parleremo poi dell'aumento della classe energetica minima. Si chiederà di aumentare la classe energetica delle abitazioni da D e D. Quindi, cosa vuol dire? Adesso chi si trova a dover vendere un'abitazione potrebbe essere in difficoltà, perché la sua abitazione è poco appetibile per il mercato avendo una classe energetica molto bassa. Come miglioro la classe energetica? Efficientando l'involucro, efficientando gli impianti. Involucro, cappotto, impianti, pompe di calore, fotovoltaico. Quindi questo potrebbe essere, come diceva giustamente prima, un investimento anche per rendere più appetibile sul mercato immobile, ma anche avere un valore maggiore. L'utente finale ormai ha capito la classificazione energetica, la vede sugli elettrodomestici, quindi è abbastanza intuitivo. Una classe energetica alta dell'abitazione la rende più appetibile. Quindi si andrà sempre di più in questa direzione. È chiaro che non ci si può esimere da incentivi, quindi non stento a credere che sicuramente ci sarà qualcosa in futuro che aiuterà a rendere più a portata di tutti questa tecnologia, perché deve essere una tecnologia a portata di tutti. È a portata di tante persone, secondo me gli incentivi aiuteranno molto. Un altro passo importante sarà il bando, verranno bandite le caldaie. Quindi ad oggi stranamente sono ancora incentivate. Si passerà sicuramente da un primo step, da eliminare gli incentivi sulle caldaie a combustibile fossile e si arriverà a fine 2030, mi pare, si andrà verso uno stop della produzione della caldaia. Quindi si andrà o su sistemi ibridi, quindi una pompa di calore che si fa aiutare in alcune situazioni della caldaia, quindi caldaia più pompa di calore in simbiosi, o pompe di calore pure, che andranno a soddisfare i nostri fabbisogni energetici. Quindi il futuro è questo, l'abbiamo visto anche sulle automobili. Elettrificazione, decarbonizzazione, riduzione del CO2 ed efficientemente energetico. Quindi il futuro è abbastanza chiaro e chi lavora in questo settore penso che sia un'opportunità forte per fare bene, lavorare, togliersi tante soddisfazioni anche per gli utenti finali, far qualcosa per le loro abitazioni, anche per l'ambiente sicuramente. Quindi è importante stare al passo con i tempi, parleremo di questo nella prossima puntata, in particolare del super bonus 90%, della detrazione al 50%, dell'ecobonus 65%. Insomma, dette così, sono informazioni che tutti abbiamo magari colto e possono sembrare confuse o complicate. In realtà voi ci farete chiarezza, vero? Ci proviamo. Allora, se non avevate niente da aggiungere, c'era qualcosa in conclusione che volevate dire? Ma io sono d'accordo con la chiusura del collega. Diciamo che oggi quello che spaventa più sul fronte incentivi è la poca chiarezza che c'è stata negli ultimi mesi. Quindi l'importante è magari appoggiarsi a società strutturate, perché sono tecnologie, come dire, nuove e quindi magari avere qualcuno che guidi l'utente finale nella scelta migliore. Questa è la cosa importante. Certo, ci vuole un supporto, un sostegno importante. Io vi ringrazio, quindi ringrazio Federico Zammarini per essere stato con noi. Grazie a tutti. Ringrazio anche Ingegner Gabriele Martino. Grazie a voi dell'ospitalità, grazie mille. E ovviamente un ringraziamento va anche a voi, telespettatori, continuate a seguirci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.